Buon venerdì, come state? Bentornati alla terza... è la terza? Sì, è la terza. Bentornati alla terza puntata della mia rubrica di febbraio dedicata ai cannibali fave e chianti. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon chianti. Prima di tutto, grazie di cuore, non ve lo dirò mai abbastanza, siamo arrivati a 4.000 iscritti. Grazie a tutti i commenti carini che mi lasciate, davvero lo so che l'ho già fatto altre mille volte, però ci tengo perché sono davvero grata e se questo potrà diventare il mio lavoro reale, sarà per me davvero un regalo da parte vostra e sarà tutto merito vostro, quindi grazie. Grazie, grazie perché non mi sarei mai aspettata che in così poco tempo saremmo stati così tanti. Questo è un altro caso che mi avete richiesto in tantissimi ed è un altro caso disgustoso. Ragazzi, questo caso è disgustoso, come ogni caso del venerdì, siamo sinceri, è una rubrica disgustosa. Ma c'è qualcosa nei cannibali che mi fa davvero uscire di testa, è una cosa che proprio non capisco. Non che capisca l'uccidere un'altra persona in generale, però i cannibali sono davvero su un altro livello, un altro pianeta. Comunque se per caso vi ha dato fastidio magari il video dell'altro venerdì, se per voi era un po' troppo, decisamente saltate questo video, uscite subito, correte, salvatevi perché questo video sarà molto peggio. Oggi parliamo di Armin Maywes. Maywes? Chiedo scusa a tutta la comunità tedesca perché pronuncerò in modo sbagliato tutti i nomi tedeschi che ci saranno in questo caso, scusatemi ma non ce la posso fare. Quindi per comodità lo chiamerò Armin, il cannibale di Rottenburg. Armin nasce il primo dicembre del 1961 in Germania ed era il terzo figlio nato dal terzo matrimonio di sua madre con suo papà. Suo papà faceva il poliziotto e Armin lo guardava davvero con ammirazione, pensava infatti che fosse un eroe. Sua madre aveva 19 anni in più di suo padre, c'era una grande differenza di età. E Armin descrive sua madre come una donna molto possessiva, molto manipolatrice, che ha sempre cercato di controllare suo marito. Era molto gelosa e lo accusava spesso e volentieri di tradirla. E si dice anche che si è rimasta incinta di Armin non tanto perché volesse un terzo figlio, quanto per proprio diciamo incastrare il padre di Armin, per tenerlo più vicino a sé. La relazione tra i genitori di Armin era palesemente malsana, di conseguenza i litigi tra i due erano molto frequenti. E tutte le volte che litigavano pare che la madre di Armin avesse l'abitudine di minacciare di morte il marito, il padre di Armin. Era una cosa normale in quella casa. Litigavano, lei gli urlava ti ammazzo ed era una routine. Come già detto Armin era il più giovane di tre figli e quando aveva soli 5 o 6 anni, i suoi fratelli, che erano grandi abbastanza, hanno detto sai che c'è, io me ne vado. Erano stanchi dell'aria che tirava in quella casa, quindi tutti e due i suoi fratelli hanno deciso di andarsene, lasciando Armin da solo con i suoi genitori. Armin racconta anche che sua madre era totalmente anaffettiva, non dimostrava nessun segno di amore verso di lui e anzi pare che tra i due non ci fosse proprio granché rapporto. L'unico modo in cui sua madre si rivolgeva a lui era urlargli contro e chiedergli di continuo di fare i lavori di casa. Pare che lei in casa non facesse nulla, era tutto sulle spalle di Armin che ai tempi aveva solo 6 anni. E ad un certo punto anche il padre di Armin si è stancato della situazione e quando Armin aveva soli 8 anni suo padre se ne va. E pare che se ne vada senza neanche dare una spiegazione ad Armin, senza neanche salutarlo, è proprio scomparso da un giorno all'altro. E Armin da quel momento non lo rivedrà mai più. E immaginate il danno che può fare una cosa del genere su un bambino. Quindi a questo punto Armin è stato abbandonato non solo dai suoi fratelli ma anche dal suo stesso padre. E pare che Armin fosse anche bullizzato da alcuni ragazzi a scuola. Questo perché Armin era un ragazzino molto timido, molto introverso. E il fatto di essere bullizzato ovviamente non ha fatto altro che farlo chiudere ancora di più in se stesso. Tanto che Armin per sopperire la solitudine si crea un amico immaginario di nome Frank. E si rifugia anche nella lettura. E sviluppa una morbosa attrazione per la favola Ansel e Gretel. Soprattutto la parte in cui Ansel stava ingrassando per poi farsi mangiare dalla strega. E pare che questo fu il primo momento in cui le fantasie cannibali iniziarono a svilupparsi nella mente di Armin. All'età di 16 anni Armin si trasferisce a Rottenburg con sua madre, nella loro residenza di campagna, che era una casa enorme. E a 19 anni si unisce all'esercito tedesco e ci rimane per 12 anni. E questo perché gli piaceva sentirsi una persona normale. Gli piaceva avere una routine, ovviamente la vita militare è molto rigida, è una routine molto rigida e questo lo aiutava a non sentirsi diverso. E gli impediva anche di dare sfogo alle sue fantasie perverse che crescendo andavano peggiorando. Durante tutti questi anni da militare ha diversi incontri con diverse donne, ma tutti questi incontri non portavano mai da nessuna parte. Armin inizia ad avere dubbi sulla sua sessualità, tant'è che pare abbia chiesto diverse volte a un suo amico, secondo te sono gay? E questo suo amico? C'è un'intervista con questo suo amico in cui pare gli dica, questa è una cosa che devi capire tu, non è una cosa che posso dirti io. E questo amico però dichiara anche che Armin era palesemente gay. Lo sapevano tutti. Sembrava che lui fosse l'unico a non accorgersene o comunque a non volerlo ammettere. E ad un certo punto Armin inizia a bere molto, finisce anche in due incidenti stradali causati dal fatto che fosse ubriaco alla guida e alla fine viene anche cacciato dall'esercito. Al che torna a vivere a casa con sua madre, che diventa molto molto possessiva con lui. Non gli lasciava un briciolo di privacy, non lo faceva respirare. Ogni volta che Armin si doveva incontrare con un amico o con una ragazza, la madre irrompeva all'improvviso, era estremamente gelosa, aveva un rapporto con lui molto morboso e poco sano. Armin a un certo punto trova lavoro come tecnico di computer. E nel frattempo sono gli anni 90 e quindi nasce il World Wide Web, l'internet. E all'inizio, non so se vi ricordate, io mi ricordo perché sono grande abbastanza, l'internet era un luogo non molto sicuro. Mi ricordo i miei genitori mi dicevano, non dire mai il tuo vero nome su internet perché poi ti vengono a prendere, ti uccidono. Questo perché all'inizio l'internet non era molto controllato, non c'erano tutte le norme di sicurezza che abbiamo oggi. Quindi su internet si poteva trovare veramente di tutto. Al che Armin inizia ad approcciarsi a questo mondo dell'internet, poi facendo il tecnico di computer, passava tutto il suo tempo al computer e inizia, per usare un termine tecnico, a smanettare su internet. E smanettando trova questa community online di cannibali. Era proprio un sito web, una specie di forum in cui c'erano tutti questi cannibali che parlavano, discutevano delle loro fantasie perverse, di come sognavano di mangiarsi l'un l'altro, cose così. E quando Armin trova questa community è sollevato perché pensa, ok, quindi non sono l'unico ad avere questi pensieri. Quindi Armin frequenta diversi siti per cannibali, di cui il più famoso si chiamava The Cannibal Cafe. E finisce anche per aprire un suo sito web, un sito segreto. E inizia anche lui a partecipare a queste discussioni, conversazioni con altri cannibali su questi siti. Al che Armin, che era una persona molto creativa, un giorno decide di andare dal macellaio sotto casa a comprare della carne. E poi inizia a modellare questa carne affinché sembrasse carne umana, affinché sembrassero proprio degli arti umani. gli fa delle foto e le posta su questi siti, usando come pseudonimo il nome del suo vecchio amico immaginario Frank. E con queste foto lui voleva far credere alla gente che avesse davvero ucciso una persona e ne avesse mangiato le carni. E si vantava di questo. Cioè era il primo fake nella storia dell'internet. E ovviamente la gente gli credeva e hanno iniziato tutti a idolatrarlo. Era pieno di gente online che si scambiava queste fantasie, no? Di voler mangiare un'altra persona, ma nessuno l'aveva davvero fatto. Invece Armin non era solo parole, era fatti, no? Quindi hanno iniziato a trattarlo come un eroe. Wow, ha mangiato una persona, che fico. Quindi Armin diventa popolare su questi siti, diventa un influencer. Scusate, non so se avete sentito delle sirene prima, ma tipo alla decima sirena che passava sotto casa mia ho deciso di andare a vedere e mi sono resa conto che il palazzo di fianco al mio stava andando a fuoco. Quindi ho deciso di fare una piccola pausa. Ma ora è tutto a posto, tutti stanno bene, credo, spero. Dicevamo, il 2 settembre del 1999, Armin torna a casa da lavoro, va nella camera da letto di sua mamma e la trova morta nel suo letto. E normalmente questo sarebbe un evento triste, ma invece Armin ne era, estremamente felice. Si sentiva sollevato perché finalmente era libero dal controllo morboso di sua mamma e finalmente può anche sfogare tutte le sue più recondite fantasie perverse. Così decide di trasformare la camera da letto di sua mamma, fare un po' di makeover e trasformarla in una stanza adibita alla macellazione, a cui dà il nome di Il Mattatoio. Che fantasia! Compra una serie di utensili, macchinari dediti a questo scopo, appende dei ganci, sapete i ganci per la carne, e inizia a pubblicare sui vari siti tipo Cannibal Cafe degli annunci per adescare delle potenziali vittime. E in questi annunci Armin scriveva di cercare un volontario, una persona che volesse farsi mangiare, che fosse consenziente e questa era una cosa molto importante per lui. La persona doveva essere consenziente. E uno di questi annunci diceva Si traduce così, horny flesh. Cos'è? Carne vogliosa. Non ho capito cosa intendesse con carne vogliosa, ma è così. Quindi Armin voleva carne vogliosa e sorprendentemente riceve un sacco di risposte a questo annuncio. Ma una volta che portava queste persone che rispondevano all'annuncio nella sua camera mattatoio, spesso queste persone cambiavano idea, magari ci ripensavano all'ultimo. Pare che addirittura un ragazzo si sia steso sul suo tavolo e proprio un minuto prima di cominciare abbia detto no, non mi sento molto bene, ci ho ripensato, ho cambiato idea. E Armin gli ha detto ok, no, allora no, se non sei consenziente non ti tocco, puoi andare a casa. Quindi questa persona è stata estremamente fortunata e Armin non voleva fare del male a qualcuno che non lo volesse. È il che lo trovo molto curioso. Quindi Armin non riusciva a trovare una persona che andasse fino in fondo, al che il nostro piccolo artista prende un manichino che un negozio aveva buttato, inizia a dipingerlo facendolo sembrare il più reale possibile, più simile a un corpo umano, lo riempie di sangue finto e gli fa delle foto e le pubblica sui suoi siti, facendo di nuovo sembrare che avesse ucciso una persona e che poi l'avesse mangiata. Le persone di nuovo vanno fuori di testa, lo chiamano eroe, lo idolatrano ancora di più, finché un giorno un ragazzo risponde all'annuncio di Armin e sembra essere davvero intenzionato ad andare fino in fondo. Quest'uomo si chiama Bernd Brandes, ma noi lo chiameremo Brandes. Brandes era un ingegnere di 34 anni ed era sposato, ma a quanto pare a un certo punto era andato da sua moglie e le aveva confessato di avere dei dubbi sulla sua sessualità. Pensava di essere gay, ma non era sicuro e le aveva detto di avere intenzione di sperimentare, al che la moglie lo aveva lasciato. Quindi Brandes era ancora sposato, ma da poco, diciamo, separato. Brandes era anche lui su questo sito Cannibal Café, anche lui aveva queste fantasie. Quindi all'inizio con Armin si scambiano diverse email e in queste email parlavano appunto delle loro fantasie e discutevano del modo migliore per mangiare Brandes. E Brandes suggeriva anche molte idee a riguardo. Per esempio voleva che il suo teschio venisse usato come posacenere una volta che lui fosse morto, ma soprattutto suggerisce questa cosa che era la sua più grande fantasia. Brandes voleva che gli venisse mutilato il pene, che fosse cucinato e voleva poi assaggiarlo. Anzi, voleva che entrambi lo mangiassero. E Armin in diverse interviste dice che non voleva assolutamente mancare di rispetto alla volontà della vittima, del volontario anzi. E che quindi non si sarebbe mai sognato di non rispettare questo suo desiderio, questa sua fantasia. Quindi se il volontario voleva essere mangiato in un certo modo, Armin lo avrebbe mangiato in quel modo. Quindi il 9 marzo del 2001 i due si incontrano a casa di Armin e subito hanno un rapporto sessuale. E successivamente Armin dà a Brandes una serie di sonniferi, una serie di pillole, per aiutarlo a rilassarsi, perché non voleva che Brandes provasse troppo dolore. E glielo dice. Brandes è consapevole di tutto, sai non gli dà dei sonniferi di nascosto. No, Brandes è consapevole di tutto quanto. Armin gli dice anche che aveva intenzione di filmare tutto il procedimento, così da poterlo guardare e riguardare quando voleva. Quindi decidono di iniziare e decidono di partire dal desiderio di Brandes, quello di mangiare il suo pene. Quindi Armin sistema la telecamera e inizia a tagliargli il pene. Glielo taglia. E in un'intervista Armin dice che Brandes in quel momento ha urlato in un modo orribile, ma che è durato molto poco, ha urlato per circa 20-30 secondi, e che il sangue ha iniziato a sgorgare dalla ferita aperta come se fosse una fontana. Queste sono le sue parole di Armin. Quindi alla fine tagliano questo pene e Armin decide di cucinarlo, perché questo era il desiderio di Brandes, erano lì per questo. Quindi lo mette in una padella con dell'olio, dell'aglio e una spolverata di pepe. Lo fa saltare. E lo taglia anche in piccole parti, così da poterlo dare anche ai suoi cani. E dopo lo mangia in compagnia di Brandes. E Armin dichiara che questo piatto non era per niente buono. Era gommoso e faceva schifo, insomma. E Armin era molto deluso da questo. Cioè era proprio... non era commestibile. Nel frattempo il povero Brandes sta sanguinando molto, sta facendo un disastro in tutta la casa, al che Armin decide di prenderlo e di spostarlo nella sua vasca da bagno. Così da lasciarlo morire dissanguato senza sporcare tutto. E Armin dice che questo è stato un processo molto lungo. Lui si aspettava che Brandes ci mettesse molto meno a morire, invece ci ha messo circa tre ore. Quindi Armin, per passare meglio il tempo, decide di tirar fuori il suo libro di Star Trek. Non sto scherzando, sembra... sembra... sembra una storia inventata, invece è così. Tira fuori il suo libro di Star Trek e inizia a leggere per tre ore aspettando che Brandes muoia. E dopo tre ore va a controllare Brandes e vede che ancora questo poverino non è morto. Al che gli dice, senti, scusami però ci stai mettendo un po' troppo a morire, quindi adesso ti taglierò la gola. E lo fa. E quando Brandes è finalmente morto, Armin prende il suo corpo, lo porta appunto nella stanza mattatoio, lo taglia a pezzi e ne mette una parte nel freezer e alcuni resti, tra cui il teschio, li seppellisce in giardino, nonostante avesse promesso a Brandes di usare il suo teschio come posacenere. E sempre in un'intervista Armin dichiara di aver tirato fuori il suo servizio di piatti più bello, di aver apparecchiato la tavola con delle candele, di aver preso un pezzo della schiena di Brandes e di averlo cucinato come se fosse una bistecca. L'ha fritto in padella insieme a dei broccoli e delle patate e dopo averlo cucinato lo ha mangiato. E dichiara, cito, Il primo morso era ovviamente un po' strano. È una sensazione che non so descrivere. Ho sognato questo momento per 40 anni e in quel momento avevo finalmente raggiunto il mio obiettivo. La carne sapeva di maiale, ma con un sapore un po' più forte. E poi appunto ha conservato i restanti pezzi nel freezer per poterli consumare nei dieci mesi successivi. Ovviamente pubblica anche sul sito Cannibal Café delle foto che aveva fatto a Brandes durante tutto il processo. Come al solito per avere questo consenso della gente. Comunque Armin veniva da una famiglia in cui tutti lo avevano abbandonato e quindi sicuramente traeva piacere anche dall'essere al centro dell'attenzione, da essere idolatrato. Verso la fine di novembre Armin decide di pubblicare un altro annuncio su questi siti. Perché la carne di Brandes scarseggiava e quindi Armin aveva bisogno di un altro volontario. Quindi posta un altro annuncio sempre su questi siti al che uno studente australiano che era su questi siti e che aveva già visto gli annunci di Armin, aveva già visto le foto che pubblicava, decide di chiamare la polizia. Al che il 10 dicembre del 2002 la polizia va a casa di Armin e inizia a perquisire la casa, a guardarsi intorno. E quando aprono il frigo e il freezer trovano tutta quella carne e chiedono ad Armin che cos'è questa. E Armin risponde che si tratta di carne di maiale selvatico, ma la polizia quando guarda più da vicino questa carne si accorge che c'è ancora della pelle attaccata. Quindi la polizia prende questa carne per analizzarla e dai risultati viene fuori che si tratta appunto di carne umana. Al che Armin ammette tutto, confessa tutto, qualsiasi cosa. Gli dà anche il computer con tutte le prove all'interno, tutte le foto che aveva fatto, le registrazioni di quello che aveva fatto a Brandes. Al che la polizia ovviamente lo arresta. Il 30 gennaio 2004 Armin fu sentenziato a soli otto anni e mezzo di prigione. Il che ha fatto imbestialire tantissime persone. La gente era furiosa. Ma la difesa di Armin era che Brandes fosse consenziente. Avevano tutte queste prove, avevano tutte le mail che si erano scambiati, avevano anche il fatto che Brandes avesse guidato da solo fino a casa di Armin. E la cosa più sconvolgente, che ho dovuto davvero controllare se fosse un'informazione corretta, Ai tempi il cannibalismo in Germania non era considerato illegale. Viene quindi condannato per omicidio volontario a sfondo sessuale e provano a dargli l'ergastolo. E finalmente il 10 maggio del 2006 viene condannato a passare tutta la sua vita in prigione. E una curiosità da sapere è che mentre era in prigione, cioè è ancora in prigione, passerà tutta la vita in prigione, ma durante la sua permanenza in prigione Armin è diventato vegetariano. Quindi, amici miei, questa era la storia di Armin, il cannibale di Rottenburg. Una storia davvero schifosa e assurda. E sembra davvero una storia non vera. E invece purtroppo lo è. Grazie per aver passato il vostro tempo con me, come ogni volta. Grazie di seguirmi, di supportarmi, di lasciarmi sempre commenti positivi. Sono davvero, davvero il 99,999 sono commenti positivi e dolcissimi. E di questo vi ringrazio perché comunque è un momento molto difficile, penso, per tutti noi. Penso che tutti noi stiamo cercando di mettere le nostre forze, le nostre attenzioni solo su cose che ci fanno stare bene. E quindi, credetemi, io sto mettendo tutta la mia forza e attenzione su questo canale, su questi video. Ci metto tutta me stessa e sono contenta di riuscire a trasmetterlo. Perché dai commenti che mi lasciate leggo che effettivamente riesco a trasmettervi quanto io ci tenga a questo canale, a questi video, a voi. Quindi sì, vorrei che fosse uno spazio positivo in cui ci si scambia solo commenti positivi perché di cose negative ce ne sono già abbastanza e io perlomeno non ho bisogno di altro. Quindi vi ringrazio, grazie, grazie, grazie. Ci vediamo lunedì con un altro video. Ciao! Ciao!